Due panetti di hashish già pronti per essere smerciati e immessi sul mercato sono stati trovati dai carabinieri nel vano portaoggetti di un ciclomotore vicino al serbatoio della benzina di un diciottenne incensurato a Comiso. Il giovane pensava che l'odore della benzina riuscisse a sviare il fiuto del can antidroga Dick del centro cinofili di Catania, ma lo stratagemma non è bastato a trarre in inganno l'addestrato animale che ha immediatamente fiutato la sostanza allertando i militari del nucleo investigativo che in poco tempo hanno trovato la sostanza proprio laddove era stata segnalata la presenza. Dallo stupefacente ritrovato del peso complessivo di 150 grammi sarebbe stato possibile ricavare oltre 400 dosi che se rivendute avrebbero potuto fruttare circa 5.000 euro. Il diciottenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.